Entrerei subito nel problema del neurosviluppo, il neurosviluppo probabilmente è forse l'elemento di maggiore novità del DSM 5 non tanto in termini di nuovo capitolo che sostituisce quello precedente dei disturbi dell'infanzia e della fanciullezza ma quanto un tipo di approccio che per noi è abbastanza naturale, noi neuropsicati infantili, abbastanza naturale perché noi lo sviluppo ce lo vediamo in diretta, fortunatamente spesso in termini prospettici o quantomeno lo possiamo ricostruire con i testimoni diretti che sono i genitori. E secondo me, come è stato detto più volte anche in giornata, la valutazione e la prospettiva del neurosviluppo è uno dei modi per affrontare le cose di cui si parlava poco fa, anche il Cermene ne faceva riferimento, la crisi dei sistemi categoriali, i buchi che si vedono e un altro aspetto che è collegato a questa crisi che è un correlato, che è il concetto di comorbidità che per lungo tempo noi abbiamo utilizzato come se fosse una cosa vera senza sapere in realtà di cosa si trattasse. Questi sono i disturbi dello sviluppo, del neurosviluppo, ci sono una serie di linee di sviluppo, lo sviluppo cognitivo, lo sviluppo linguistico, lo sviluppo motorio, lo sviluppo degli apprendimenti, della comunicazione, della relazione, della regolazione, tutte queste linee possono essere rallentate, deviate o bloccate e ciascuna di queste ha un suo correlato di un disturbo che è la disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi della coordinazione motoria, i disturbi dell'apprendimento, i disturbi dello spettro autistico, la DHD, manca curiosamente la linea dello sviluppo affettivo, cioè come è fatto un disturbo dello sviluppo della linea affettiva e non lo sappiamo e non c'è un disturbo che lo caratterizzi. Fortunatamente, come c'è scritto lì, i disturbi del neurosviluppo quasi sempre sono in associazione, per cui quello che è successo nel corso di questi anni è che le alterazioni del neurosviluppo affettivo sono state studiate appoggiandosi ad un altro disturbo che era il disturbo forse paradigmatico nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo, questo disturbo del neurosviluppo che era la DHD, la DHD aveva questa tria sintomatologica che era l'iperattività, l'impulsività, il disturbo dell'attenzione, era una situazione un po' incasinata perché c'era il problema è normale, patologico, vivace, non vivace, sono sintomi aspecifici, c'è la comorbidità, ma quel punto interrogativo fa riferimento al fatto che questa caratterizzazione non copriva, ovviamente come era ben chiaro dalle concettualizzazioni dei primordi della DHD, non copriva il quarto buco che era quello della disregolazione emozionale, che è la quarta gamba della DHD che nel corso degli ultimi anni è diventato un focus dell'attenzione. All'inizio si pensava che la disregolazione emozionale della DHD fosse un qualcosa che poteva essere secondario agli eventi che i ragazzini a DHD potevano vivere nella loro vita, le difficoltà relazionali, le difficoltà con i genitori, eccetera, oppure legata alla comorbidità. Ma non fosse un elemento. Oggi e diciamo negli ultimi anni e in maniera interessante a partire soprattutto da alcune cose, osservazioni fatte sugli adulti, si è caratterizzata questa quarta dimensione della DHD, e questa incapacità o scarsa capacità di modulare una risposta emotiva adattiva. E quindi ragazzini che sono particolarmente eccitati, eccitabili, iperreattivi, facili alle crisi di rabbia, con l'abilità, cambi di umore ma anche e soprattutto cambi di energia, con senso di insoddisfazione e soprattutto il senso della noia. Non tutti sono così, ma vedremo c'è un motivo per cui non sono tutti così, ma grosso modo nei ragazzini, almeno un 40% dei ragazzini che hanno ADHD hanno come elemento forte questo elemento dell'emotional dysregulation, soprattutto quelli con le forme combinate, soprattutto quelli con le forme più gravi, ma soprattutto, l'accennava stamani Giulio, le forme che si mantengono negli adulti. Le forme con dysregolazione emozionale sono quelle forme nelle quali è più facile che la continuità con l'adulto sia più evidente. Questa è un, l'avete vista anche in altre occasioni, per cui una delle possibilità evolutive che noi possiamo avere è che un ragazzino possa avere una ADHD, ma possa avere una ADHD con emotional dysregulation e sviluppare la sua fenomenologia in adolescenza e anche in età adulta, lì si è un po' alterata la scritta, comunque la terza fila è quella degli adulti, la seconda è quella degli adolescenti e con una particolare prevalenza nelle forme con le tre frecce in basso a sinistra per le forme dell'adulto, cioè una ampia fetta di bambini, soprattutto di adolescenti e di adulti che non hanno una comorbidità affettiva, hanno questa componente, questa componente di emotional dysregulation giustifica una fetta importante della varianza di gravità di questi pazienti e può essere inserita all'interno di quello che è l'elemento nucleare dell'ADHD, cioè questa alterazione delle funzioni esecutive, questo è un summa di quello che noi possiamo aspettarci nei pazienti a ADHD in cui le alterazioni ambientali, intrauterine, genetiche eccetera cooperano a alterare alcuni network che poi producono in termini clinici questi deficit neuropsicologici che possiamo definire le alterazioni delle funzioni esecutive. Cosa riguardano? Possiamo entrare dove ci pare in questo cerchio, uno è quello per esempio in basso, dello sforzo, cioè la capacità di gestire il livello di vigilanza, di mantenere lo sforzo in maniera continuativa e condizionare la velocità con la quale noi processiamo i nostri fenomeni, la capacità che abbiamo di focalizzare, di mantenere e di spostare l'attenzione, la capacità che noi abbiamo di organizzare il nostro comportamento definendo le priorità, cioè che cosa è più importante, cosa è meno importante, che cosa faccio prima e che cosa faccio dopo nel momento in cui organizzo, la capacità che io ho di monitorare queste attività mentre le faccio vedremo fra 5 minuti, anzi anche meno, qual è la ripercussione della vita quotidiana di questi aspetti. L'aspetto della memoria, in particolare la memoria del lavoro, ovviamente c'è l'aspetto emozionale, l'aspetto emozionale è quello della gestione dello stress, la gestione delle frustrazioni, la gestione delle alterazioni, delle oscillazioni sul piano emozionale. Tutti questi aspetti sono ADHD e tutti questi aspetti sono il correlato di questi. Se noi andiamo a vedere nella realtà della vita quotidiana di questi ragazzi o anche di questi adulti, quello che noi traduciamo in quel cerchio che abbiamo visto prima sono queste cose di cui abbiamo già parlato ma una rinfrescatina non fa male perché aiuta a caratterizzare alcuni pazienti. L'aspetto della distraibilità, persi nei propri pensieri, il mind wandering, l'esauribilità, la tendenza cioè a esaurire il carico attentivo sulle attività che noi facciamo e scegliere o dover essere dipendenti da attività che abbiano un reward immediato perché altrimenti l'attenzione si dissolve e quindi il tema che è un tema che voi trovate in un bambino di 3 anni e in un adulto di 40 anni che è il tema della noia. Il tema della noia adesso cosa faccio, adesso cosa faccio, adesso cosa faccio e il dover cambiare costantemente le cose, la suddivisione dell'attenzione, multitasking, la capacità di mobilizzare l'attenzione, la working memory, tutti questi aspetti sono aspetti che condizionano la qualità della vita quotidiana in termini cognitivi. Questo è un elemento ancora più importante, se c'è un elemento, dopo lo vedremo, è uno degli elementi tipici dei test che vengono utilizzati per l'ADHD degli adulti che è l'elemento dell'organizzazione, se molto più dei disturbi dell'attenzione o dei disturbi del comportamento dell'impulsività è la disorganizzazione che caratterizza la qualità di queste persone, cioè io ho un obiettivo che devo raggiungere e faccio una sequenza di atti che automaticamente, in maniera del tutto inconsapevole, sono finalizzati al raggiungimento di un obiettivo. Questo aspetto che per noi è come respirare, è come camminare, quindi non lo gestiamo e nemmeno ce ne rendiamo conto, viene completamente a saltare per aria per i motivi che abbiamo visto prima di quel cerchio, delle funzioni esecutive in questi pazienti che invece hanno una disorganizzazione, la differenzione delle priorità. Quello che in un bambino è, devo fare un compito e mi perdo in una serie di dettagli insignificanti, gli ultimi 5 minuti capisco, mi metto lì e però non faccio in tempo a finire le cose, lo stesso modello che molti applicano nella loro vita quotidiana, in cui non sono capaci di fare una cosa che per noi è automatica, cioè capire che cosa è importante e cosa non è importante e organizzare il nostro comportamento sulla base di queste priorità. La terza è ancora più importante, cioè la capacità di collocare queste azioni in una dimensione di tempo. L'orologio che gira nella testa delle persone a DHD ha dei tempi che sono completamente diversi. Il bambino quando si mette a sedere dopo 5 minuti dirà quanto manca, abbiamo finito 5 minuti. L'adulto in un modo un pochino più organizzato fa esattamente la stessa cosa e non riesce a collocare in segmenti temporali le cose che deve fare, compreso pagare una bolletta, ma compreso consegnare un lavoro o arrivare in tempo ad un appuntamento. Tutte queste cose sembrano cose banali se le sommate qualificano la qualità della vita di queste persone. Questo forse è ancora più importante, il monitoring. Noi quando facciamo una cosa c'è un pezzo della nostra coscienza che valuta come io la cosa la faccio se mi va bene, va bene, se non cambio. Queste sono persone che dicono a me, io mi trovo sempre in situazioni incasinate, ma guarda che cosa mi succede. Voi gli chiedete ma com'è che ti è successo? Loro vi raccontano una cosa che ovviamente sarebbe stata assolutamente prevedibile nel suo esito. E uno gli dice ma come hai fatto a non rendertene conto? E loro dicono guarda lì per lì non ci ho pensato. E questo aspetto che può essere un aspetto che possiamo attribuire alla superficialità, alla non curanza o alla stupidità a volte è un elemento che fa parte di queste caratteristiche. Soprattutto quando il monitoraggio coinvolge non solo le cose che io sto facendo ma le relazioni che io sto stabilendo con gli altri. Cioè una sensibilità sociale, alcuni l'hanno chiamata la dismetria sociale perché sono cose molto frequentemente attribuite tra le altre come il tempo per esempio alla funzione cerebellare e quindi come la dismetria. E questa dismetria sociale o immaturità o insensibilità sociale condiziona la scarsa capacità che queste persone hanno di stabilire una percezione corretta di quelle che sono le situazioni di contesto. Cosa dire, cosa fare in un certo momento, capire sulla base delle relazioni degli altri che cosa fare e cosa non fare. Ovviamente l'impulsività, che è un altro elemento, agire senza pensare, a disagio se deve aspettare, non riesco a frenare, la guida è imprudente, i sorpassi, resistere alle tentazioni, essere lento in compiti con scarso reward, ci metto tre ore a scrivere una lettera, ma se c'è un immediato reward lo faccio in un millisecondo. Tutta questa, perché vi dico questo? Perché molte di queste cose qui possono essere attribuite a molti altri ambiti della nostra psicopatologia o anche della nostra caratterizzazione della personalità se non abbiamo la possibilità, in un'ottica di neurosviluppo, di ricostruirle e dire ma questa a tre anni com'era? Era così, e a cinque anni così, e a otto così, ovviamente con tutti i cambiamenti che questo comporta in termini evolutivi, esattamente come ovviamente essere bipolari a nove anni è diverso da essere bipolari a quaranta, al di là delle differenze fenotipiche. Tutti questi aspetti, a volte Giulio dice quasi tutti gli ADHD hanno comorbidità, alcuni no, alcuni no e arrivano a essere ADHD negli adulti e non sono quelli, chiaramente c'è il tossico, quello che si taglia, che hanno l'ADHD all'interno di una fenomenologia molto complessa. Questi qui non ce l'hanno in quel, ce l'hanno, qual è la diagnosi sbagliata che possono ricevere questi qui? Disturbi d'ansia o depressione lieve, cioè una serie di condizioni reattive, di insoddisfazione, di incapacità eccetera, che sono però il frutto di una storia prolungata in cui i sintomi che vi ho detto ora non vengono attribuiti a dei deficit neuropsicologici, al loro correlato comportamentale ed emozionale, ma vengono attribuiti al carattere, mentre il quadro clinico è l'ansia e la depressione. Io spesso dico, questi qui si vedono in pazienti che noi abbiamo diagnosticato come ansiosi o come depressi che non hanno risposto ai nostri trattamenti. Lì dovremmo andare a cercare queste forme che sono le forme, ovviamente alcuni hanno anche questa componente aggiuntiva come elemento caratterizzante, che è, l'ho fatta vedere stamattina, questa qui l'emotional reactivity, la facciamo vedere stamattina Giulio, cioè una bassa soglia per cui basta poco per accendersi, l'impulsività emozionale, quindi un rapido ed intenso ed eccessivo incremento del tono emozionale e il deficit di autoregolazione, cioè una lenta discesa che è quello di cui faceva vedere stamattina Giulio, che è il pattern. Chiaramente questi sono persone che rispetto a quelli che abbiamo visto prima hanno un surplus, ed è un surplus in termini di qualità della vita, adattamento sociale, coniugale, licenziamenti, interruzioni di lavoro, perché questi sono importanti? Perché questi in effetti possono essere interpretati come disturbi dell'umore quando in effetti non lo sono in maniera diretta. Questa è la WURS che caratterizza le aree importanti della DHD dell'adulto e la DHD dell'adulto, la vendor, le caratterizza in questi termini, come vedete, quattro sono le aree classiche, attenzione, impulsività e smania nello stare fermo, la quarta è la disorganizzazione, che è specifica dell'adulto, le tre sono quelle emozionali, il temper control, l'affectability, l'emotional over-activity, sono le dimensioni di questa disregolazione emozionale che è ADHD. Ovviamente noi possiamo dire ma sono tutti così, non è vero, il problema è come collochiamo l'emotional disregolation all'interno della DHD. È un sintomo in più, non tutti sono d'accordo, perché? Perché non tutti ce l'hanno, anche se la sua prevalenza aumenta man mano che aumenta l'età. Ma questo è possibile, se voi andate a vedere anche le basi neurobiologiche della DHD, vedete che a seconda del pattern prevalente, la DHD, come tutto, è molto eterogeneo, per cui avete alcuni nei quali l'elemento prevalente sono le disfunzioni esecutive e da allora avremo una compromissione prevalentemente dei circuiti frontostriato talamocorticali, altri nei quali l'elemento caratterizzante è l'elemento del temporal information processing e lì c'è l'aspetto cerebellare, come vi dicevo, c'è quelli con la delay aversion, quelli che non sono capaci di attendere un apposticipo e devono fare tutto e subito e lì c'è un'altra area del cervello e poi abbiamo quelli nei quali l'elemento che prevale è l'emotional disregolation e lì chiaramente l'elemento caratterizzante è quello dei circuiti paralimbici. E' importante aver questo perché noi ci stiamo in questo ambito ancora muovendo all'interno della DHD e se noi abbiamo nella testa, come molti di noi abbiamo, il fatto che ci piacciono i disturbi dell'umore e lì che ci va il nostro cuore, è più facile che noi possiamo fare una diagnosi di questo tipo, fare delle pseudocomorbidità o dire quelle frasi che nei neuropsichiatri infantili sono molto frequenti a sentire, ma questo non è un vero ADHD, la DHD non è il suo problema principale, la cura della DHD non è l'elemento più importante, curare la DHD può destabilizzare e questo invece a volte non è vero. Questa è una meta-analisi che abbiamo fatto l'anno scorso per vedere non se i farmaci per la DHD facevano bene alla DHD perché questo lo sappiamo tutti, ma vedere se i farmaci per la DHD avevano efficacia sulla emotional dysregulation, ce l'hanno meno, l'FX size per questo tipo di sintomi è minore rispetto a quello che noi abbiamo sull'impulsività, sulla iperattività, sul disturbo dell'attenzione semplicemente perché i farmaci, gli stimolanti soprattutto hanno unFX size enorme, imparagonabile a quello degli antidepressivi però unFX size discreto, questo vedete è l'effetto, come sapete più è spostato il quadratino laggiù in fondo rispetto alla linea, più il farmaco è efficace rispetto al placebo e vedete che c'è un effetto del metilfenidato, dell'atomoxetina e anche di questo che è la lisdesanfetamina che non abbiamo in Italia come effetto sull'emotional dysregulation. Quindi tutto questo è l'emotional dysregulation all'interno. Ovviamente che roba sia questa, se sia un elemento, un criterio in più da aggiungere agli altri criteri oppure se sia uno specificatore, è un sottotipo di ADHD oppure è un tipo di alterazione emozionale specifica dell'ADHD oppure è un tipo di alterazione emozionale che voi potete trovare in tutti i disturbi del naurosviluppo e questo effettivamente è molto convincente oppure che sia una dimensione che attraversa le varie categorie anche questa è una possibilità. Voi vedete, questi sono gli disturbi in cui l'emotional dysregulation ve la potete trovare alcuni di questi li vedremo in questi dieci minuti che ci mancano sia nel disturbo dell'ospetto autistico, nella disabilità intellettiva, nel Tourette nei disturbi dirompenti del comportamento in tutti questi disturbi voi potete trovare all'interno di questi disturbi delle forme con l'emotional dysregulation intesa come una sequenza di neurosviluppo che caratterizza in termini di neurosviluppo dei sottotipi diversi rispetto a quegli altri e questo lo vedremo fra un attimo. Quale sia il rapporto tra quello che abbiamo detto e la ciclotimia per far vedere l'articolo di cui si parlava stamattina con Giulio è ancora effettivamente difficile da capire se la ciclotimia sia l'elemento dell'emotional dysregulation quando come elemento transcategoriale si colloca nella linea di sviluppo dei disturbi affettivi laddove nella DHD è un altro e nel disturbi del comportamento dirompente è un altro è difficile dirlo però questa è una possibilità. La seconda parte volevo sottolinearla per quelli che con la DHD e con l'emotional dysregulation vanno al terzo piano cioè sui disturbi dell'umore e vedere se quella sequenza che con la DHD e l'emotional dysregulation arriva ai disturbi dell'umore se questa sequenza caratterizza dei disturbi dell'umore diversi rispetto agli altri. Questo è una cosa che è stata fatta, abbiamo fatto con dei pazienti francesi erano circa 3.000 pazienti francesi adulti con una diagnosi di disturbo depressivo divisi a seconda che avessero o meno avuto e avessero ancora una DHD come elemento della loro storia evolutiva confrontati con quelli che non ce l'avevano e ovviamente questo faceva capire come non stavamo parlando di persone che avevano due malattie la DHD più una depressione ma questa sequenza evolutiva ad esempio nel caso della depressione caratterizzava un tipo di depressione che aveva queste caratteristiche per esempio che erano prevalentemente maschi e questo era prevedibile che avevano un esordio particolarmente precoce del loro disturbo depressivo che erano più gravi, che avevano una più elevata ricorrenza soprattutto che avevano delle caratteristiche miste per cui era un tipo di depressione con caratteristiche più spesso miste rispetto a quell'altra una maggiore familiarità di disturbi bipolari e questi non erano pazienti bipolari più alti livello di ansia e più frequenti sintomi psicologici era un sottotipo di depressione che aveva delle caratteristiche tra l'altro credo che, forse Giulio questo lo può dire ma un'altra analisi che è stata fatta forse sullo step BD sulle depressioni con o senza DHD credo che portasse a conclusioni abbastanza simili in termini di la DHD più depressione è quella, sì sì è quella, è il brigio per esempio un'altra caratteristica di queste forme di depressione con la DHD è la maggiore suscettibilità a comportamenti di tipo suicidario questo per la depressione per il bipolare ovviamente vale lo stesso cioè ci sono delle forme di bipolarità che passano attraverso questo percorso neuroevolutivo che è quello che è della DHD con l'emotional dysregulation sono delle forme particolari le accennava stamani Giulio sì, hanno caratteristiche anche queste particolari hanno un esodio particolarmente precoce l'umore che c'è non è l'umore euforico e nemmeno le fasi chiare ma è un umore disforico irritabile sono le classiche forme dark o forme miste sono forme ad andamento non chiaramente fasico ma chiaramente molto più frequentemente subcontinuo, cronico hanno un'elevata comorbidità con il disturbo positivo provocatorio hanno una maggiore gravità e rispondono meno ai farmaci in particolare rispondono meno al litio come succede nelle forme molto precoci e poco fasiche quale sia la loro storia naturale è ancora poco chiaro in questi termini ma è un sottotipo di disturbo e questo vale anche per gli adulti per gli adulti è stata fatta la stessa cosa con questo lo step BD che fa vedere che all'interno di questa popolazione quelli con le caratteristiche della DHD avevano un decorso particolare noi l'abbiamo guardato in questo studio che era più specifico che andava a confrontare quelli che arrivavano alla bipolarità attraverso la DHD, attraverso i disturbi multipli d'ansia o in assenza di un precursore antecedente e vedete, questo l'ho messo proprio per far vedere il rosso il rosso fa vedere che su quasi tutto quelli che avevano questo tipo di disturbo bipolare che passava per la DHD si differenzavano chiaramente non solo in termini clinici e in termini di risposte ai trattamenti ma anche in termini di comorbidità comorbidità con disturbo oppositivo provocatorio e con il disturbo della condotta cioè era un altro tipo di disturbo bipolare caratterizzato da questo percorso evolutivo ed era una cosa di non poco conto perché quelli che avevano disturbo della condotta e disturbo bipolare erano una popolazione estremamente grave a parte l'elevato rapporto con la DHD ma questa popolazione età media 13 anni e mezzo avevano il 45% di disturbo da uso di sostanze quindi in termini di previsione di gravità questo percorso è un percorso che mi consente di individuare tra quelle palle e quelle frecce dei quadri di particolare gravità in particolari ambiti questo era un altro per esempio questi erano pazienti che avevano un disturbo dell'umore una popolazione non selezionata disturbi dell'umore sia bipolari che depressioni almeno non esplicitamente bipolari per vedere qual era il predittore più importante sulle condotte autolesive che come sapete oggi è un elemento di grande importanza il predittore che era importante per queste forme che mi faceva capire se questi erano non era se erano bipolari o se erano monopolari l'elemento fondamentale era la presenza di questo temperamento in questo caso l'avevamo esplorato in modo un po' diverso che era il temperamento ciclotimico e ipersensitivo questo era il predittore che in questi pazienti in questa popolazione è l'unico che mi faceva temere che questi potevano essere pazienti ad alto rischio di comportamenti autolesivi quindi il succo è questo è un percorso evolutivo di neurosviluppo che prende la DHD e prende l'emotional dysregulation che individua dei fenotipi affettivi specifici specifici per storia naturale per caratteristiche cliniche per comorbidità esternalizzante per complicazioni l'autolesività, la suicidalità per prognosi più negativa e per esigenze terapeutiche questo è un modo per affrontare e scomporre attraverso questo concetto di developmental pathways delle categorie diagnostiche questo era l'ultimo aspetto che volevo far vedere che era quello che ci porta in alto a sinistra cioè che ci porta verso i disturbi di personalità questo è un aspetto interessante anche questo riguarda gli adulti è uno studio di qualche anno fa fatto dal gruppo di Rimer che faceva vedere come nei soggetti che avevano ADHD la possibilità di ricevere una diagnosi di disturbo di personalità da adulti era centrata su due tipi di disturbi prevedibili che sono il borderline e l'antisociale ma quando si andava a vedere chi sono questi ADHD che possano avere un'evoluzione in questo senso quello che era interessante era che gli ADHD e basta non avevano mai un'evoluzione verso i disturbi della personalità gli ADHD con emotional dysregulation sì e gli ADHD con emotional dysregulation il disturbo positivo provocatorio ancora di più cioè questa possibilità di individuare periodicamente a livelli diversi di età queste caratterizzazioni questi pattern clinici che non sono diverse malattie ma è un pattern clinico mi consente di ipotizzare la possibilità che a distanza di tempo io possa avere pazienti a maggiore o a minor rischio e quale rischio in particolare cioè questo in effetti fa vedere che in termini di comorbidità le cose sono più grossolane se le vediamo in questo modo è più facile cioè che pazienti che hanno la ADHD e l'emotional dysregulation possono non andare direttamente al piano di sopra ma entrare dentro i disturbi dirompenti del comportamento ad esempio un disturbo positivo un disturbo della condotta con l'emotional dysregulation questi qua sono per esempio pazienti che noi avevamo visto con ADHD e disturbo oppositivo provocatorio avevano una emotional dysregulation a 8 anni gli abbiamo fatto un follow up a 6 anni e siamo andati a vedere a 6 anni che cosa diventavano i disturbi oppositivo provocatori potevano avere tre possibili evoluzioni che sono questa, questa e questa questa di qua è quella degli impulsivi risk taking quella nel mezzo è quella dei disturbi antisociali con freddezza emotiva quella laggiù è quella di quelli con emotional dysregulation quella laggiù era quella di pazienti che a 14 anni avevano il più alto rischio di sviluppare un disturbo emozionale e questo io lo potevo vedere individuando a 6, 7, 8 anni la presenza o meno di un disturbo da emotional non solo, questi avevano anche la tendenza al taglio ed è interessante questo perché vedete voi avete a 8 anni un ragazzino che ha ADHD e disturbo dirompente del comportamento può avere un emotional dysregulation e allora andrà nella direzione che abbiamo visto prima più dei disturbi affettivi oppure può avere l'opposto di quella cioè il tratti callous on emotional cioè freddezza emotiva, assenza di rimorso assenza di senso di colpa quel pattern lì manda questi ragazzini da un'altra parte li manda verso la palla rossa non verso, mentre l'emotional dysregulation li manda sul disturbo della condotta e verso il disturbo bipolare il disturbo depressivo questi li manda verso il disturbo antisociale ovviamente tutte queste non devono essere considerate come singole malattie o come singole caselle questi non hanno l'ADHD il disturbo positivo, l'emotional dysregulation il disturbo della condotta e il disturbo antisociale hanno un'unica malattia che è l'insieme di tutti questi aspetti e queste diverse fasi o diverse componenti sono le diverse dimensioni che noi possiamo ricostruire con questi ragazzini e li possiamo ricostruire in diretta con loro per riuscire a capire da che parte potrebbero andare e questo soprattutto in età evolutiva ci consente di fare delle previsioni le ultime due diapositive sono queste questo è il problema grosso se ne parlava prima con Leonardo l'emotional dysregulation come la misuro? quelli sono alcuni dei modi per misurare l'emotional dysregulation ovviamente questo è un elemento fondamentale cioè a seconda dello strumento che uso analizzo le stesse cose noi chiaramente abbiamo utilizzato nei nostri studi quelli che sono degli strumenti validati per l'emotional dysregulation dell'età evolutiva a particolari profili di certi questionari eccetera siamo sicuri di avere un unico strumento per tutti? quello che stiamo provando a fare è questo lo stiamo facendo appunto con i colleghi degli adulti noi subimbetti loro sugli adulti questo è un questionario chiaramente che analizza la dysregolazione emozionale in un modo molto più analitico era quello che aveva fatto Antouche vedete con quattro sottoscale la reattività, l'intensità, la polarità delle emozioni la stabilità sono 80 domande circa e vedere se questo aspetto ci dà qualche informazione in più su quel modello che vi ho fatto vedere delle palle, delle frecce eccetera per aumentare le nostre capacità di previsione ovviamente come avrete capito è una situazione molto incasinata questo è un possibile tipo di approccio per affrontare la crisi delle categorie in una chiave evolutiva può darsi che come diceva Leonardo da Vinci alcune di queste situazioni ci possano portare qualche informazione in più soprattutto dal punto di vista nostro per gli aspetti prognostici cioè capire una volta che un bimbetto ce l'abbiamo davanti da che parte probabilisticamente potrebbe andare perché questa è la domanda che poi ci fanno i genitori finito grazie 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 grazie